A Sala va in scena la prima giornata di ritorno di prima categoria Gironi. I padroni di casa giocano la seconda partita di fila a domicilio dopo aver impattato nel segno X nel derby con i bacchi a cecenatico. I rosso-blu provano ad ottenere i tre punti con i delfini usciti anch'essi dal segno X e dalla trasferta di Perticara. Abita la gara il signor Mauro della sezione di Ravenna. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini ci spostiamo al minuto 6 del match. Ferraro mette al centro, gamba corta, mira l'angolino con Berardi che sventa il pericolo con le due dite e con l'aiuto del palo. Segue un sostanziale equilibrio in campo. Per annotare una seconda azione occorre aspettare i 46 se vuoi quando un tiro a giro di Zavalloni si spegne a lato. Sotto gli occhi del signor Mauro della sezione di Ravenna le squadre vanno a riposo solo 0-0. Ripresa più avvincente rispetto ai primi 45 minuti di gioco con gamba corta che da calcio piazzato indirizza la sfera all'incrocio dei pali ma sulla traiettoria trova la testa di Ugolini a Negali la gioia del gol. Sulla ribattuta Orlandi spedisce successivamente a lato. Dalla bandierina gamba corta trova il secondo l'inni partita questa volta centrando l'incrocio dei pali. Solo davvero sfortunato sul ribaltamento di fronte i delfini passano. Guidi salta il proprio marcatore depositando al centro dell'area di rigore un comodo cioccolatino per Zavattini che chiede semplicemente di essere scartato. 0-1 per la formazione. Ospite. Il Sala ha il merito di reagire nell'immediato ed ecco chi. Il neoentrato Milizoni tre minuti dopo con una solo personale indovina l'angolo vincente con un pallone sporco e velenoso indirizzato sul primo palo. 1-1 ristabilita la parità in campo con i festeggiamenti da parte degli uomini di casa. A questo punto i rossobruci credono. Provano ad insediare la porta di difesa da Berardi prima con Salvadori ma il portiere blocca senza problemi. Poi con Milizoni che aspettano di servire un compagno è costretto lui stesso a provare la via del gol senza fortuna. L'ultimo tentativo è a cura di Salvadori direttamente da calcio piazzato ma la palla è alta. L'ultima invece azione del match di marca Ospite con la palla calciata fuori da Zavattini termina qui. Una gara equilibrata con il Sala che crea maggiormente ma i due ligni e la scarsa precisione in alcuni casi rimandano l'appuntamento con i tre punti. Secondo pari invece per i delfini raccolto in due trasferte consecutive.